Il penultimo giorno di Fiera Agricola edizione 2020 di Verona, questa è una fiera molto importante perché è la nostra vetrina nel mondo, questa è la fiera internazionale dell'agricoltura, quindi era doveroso che Ruminanzia fosse presente con la sua redazione, siamo qui dall'apertura e ci saremo fino alla chiusura. Questo è uno dei quattro toll show che stiamo organizzando e li stiamo organizzando sia con voi, e quindi vi ringrazio della vostra presenza fisica, ma anche in chi in questo momento ci sta seguendo in diretta Facebook e poi questo evento sarà montato nel canale YouTube di Ruminanzia, per cui sarà permanentemente nella rete e quindi visibile nel tempo. L'argomento che abbiamo deciso oggi di discutere qui con voi è un po' particolare, molti mi hanno chiesto che cosa significa la parola ossimoro, che ovviamente è il contrario di sinonimo, è un argomento molto particolare, molto se volete intrigante, a cui anche vi prego sarebbe molto interessante la vostra interazione, perché questo non è un convegno, non è un workshop, ma un toll show, quindi un parlare insieme di un qualcosa, anche di un argomento apparentemente semplice e banale. Perché semplice e banale? Perché sorprende sinceramente a chi come me non è più molto proprio giovane e giovane di primo pelo, che ancora nel 2020 si debba parlare del conto economico, che dovrebbe essere un argomento scontato, ovvio che uno che ha un'attività che può essere professionale oppure imprenditoriale, diciamo titolare di una SRL o di una SPA, si faccia guidare solo ed esclusivamente dal conto economico. Ovvio è che nel nostro settore l'aspetto emotivo, emozionale è molto forte, cioè non si fa l'allevatore o il veterinario o l'agronomo se non c'è una passione, Giuseppe, a prescindere dal mero guadagno, insomma è un po' un'attività a certi versi passionaria, questo è evidente, però comunque è un'attività che deve generare una redditività, questo è ovvio. E quindi sorprende che ancora si debba in qualche modo discutere sull'opportunità di avere in azienda il conto economico. Per oggi non parleremo poi di questo, perché di convegni sono stati fatti tanti, eccetera. Quello che è invece, abbiamo deciso di coinvolgere la Farm Consulting, poi nella figura di Enrico Milanese che peraltro collabora sostanzialmente dall'origine di Ruminanzia, gestendo in Ruminanzia Mese la rubrica Economia, quindi è un suo ruolo, la Farm Consulting è una società di consulenza, non è una società commerciale, sostanzialmente vende prestazioni professionali, non vende prodotti o qualche altra cosa. Abbiamo coinvolto milanesi perché adesso le aziende che stanno partecipando a una gestione e a una discussione del conto economico cominciano a essere tante, però ha un grosso difetto che sono fortemente localizzate in una provincia della Lombardia, per cui è una visione parziale, chiaramente, perché è una visione omogenea per la pianura padana, ad eccezione del parmigiano reggiano che è un'area a sé stante, però chiaramente non è rappresentativa di quello che può avvenire nel nostro territorio. Quello che è l'argomento invece stimolante e stuzzicante, a noi ci piace un po' questa cosa qui, di forzare quelli che vengono chiamati i paradigmi. Assimo, i paradigmi sembrerebbero delle parole. Cosa sono i paradigmi? Rimaniamo nel nostro mondo, l'allevamento è tutto ciò che lo compone, quindi queste unità produttive che fanno il latte e fanno le cose sono sostanzialmente un'orchestra di attività e che è costruita sostanzialmente nei mattoni dei paradigmi. Dire che l'asciutta deve durare 60 giorni è un paradigma, dire che il mais va trinciato in quel momento, in quel periodo è un paradigma, dire che è bene fecondare le vacche al primo calore utile dopo il periodo volontario d'attesa è un paradigma, però i paradigmi muoiono, se non stavamo ancora con le clave nelle caverne, pensando che l'invenzione della ruota fosse una stravaganza radical chic, cambiano le cose, anche in maniera brutale. Guardate l'asciutta, adesso probabilmente il paradigma dei 60 giorni verrà sostituito al paradigma dei 45 giorni. Quando verrà sostituito? Quando la comunità scientifica e la comunità tecnica di noi e degli allevatori vedranno che accorciare l'asciutta da 60 a 45 giorni rappresenta un vantaggio e non un problema. Perché vi sto facendo questa lunga premessa? Perché è doverosa. Uno dei paradigmi consolidati, diciamo, delle economie che gestiscono il mondo è un po' quella dell'economia di scala. Più si produce e più si guadagna, più si fattura e più si guadagna. Più un'unità produttiva fattura, fatturare non significa guadagnare, fatturare significa il ricavo, quanto io porto a casa dalla mia attività. Nell'immaginario collettivo c'è più faccio il giro d'affari elevato, più alto il ricavo per unità, come se questo fosse un allevamento, più questo area produce fatturato, come se voi per Sarquid avesse dovuto pagare un biglietto, e più è profittevole. Questo ha governato anche la zootecnia, e che la governa dottora, anche noi ci auspichiamo nelle stalle che la produzione sia sempre più alta, sia sempre il latte più concentrato di grasso e di proteine, e quindi generi una fattura a fine mese sempre più alta. Non a caso abbiamo fatto questo talk show oggi, perché voi vedete, molti di voi sono, qualcuno vi conosco, qualcuno ha allevatori, insomma in questi giorni le vacche stanno facendo i numeri sostanzialmente, cioè delle cose quasi oltre l'immaginabile, come produzione pro capite, come percentuale di grasso e delle proteine. Fino a quattro anni fa, se uno avesse raccontato quello che sta succedendo a gennaio 2020, al gennaio 2016 uno avrebbe detto, beh forse l'Alzheimer sta presentando la prima sintomatologia clinica, perché pensare che ci sono ormai tantissime stalle che fanno 40 litri di media, il 4 di grasso e il 360 di proteine, fino a qualche anno fa era una follia, solo immaginarla. Quindi questa aspetta. E quindi sostanzialmente ci dovremmo auspettare un sempre più utile di esercizio. Aumenta il ricavo dalla vendita del latte e quindi ci potremmo immaginare di avere un utile di esercizio proporzionalmente più. L'utile di esercizio è l'ultima riga del conto economico. Quindi quello che chiederemo adesso, e gli lascio la parola al dottor Milanesi, abile gestore dei conti, anche troppo a volte, eccetera, ma c'è questa correlazione? È un sinonimo produrre tanto e guadagnare tanto o non è sempre così? Cioè l'allevamento che fa 40 di media, dico 40 per dire una soglia che sembrava inimmaginabile, una volta era 30 e si è diventata 40, te lo ricordi Giuseppe, no? Chi faceva 30 litri di media sembrava un alieno, minchia, 30 litri di media. Adesso gli fa 30 litri di media quasi chiudi l'allevamento. Adesso perdonatemi il folclore di questa cosa, no? Prima io mi ricordo i 27 litri appena laureato era minchia, se in 7 litri era una follia. Uno che fa 27 litri lo fa probabilmente con la grigia alpina ormai, non lo fa neanche più con la frisola. Per cui vogliamo capire nei numeri e nei dettagli se questo è vero, finché è ancora vero, se è ancora un paradigma, quindi faremo l'esame al dire più profitto, scusate, più ricavo faccio, maggiore è la probabilità di fare un buon utile di esercizio e profitto. Questo paradigma, Arrigo, è ancora vero o non è poi vero sempre? Perché io sinceramente ho visto, sempre nella mia carriera ormai abbastanza lunga, fallire stalle a 40 di media. Mi è capitato di vedere chiusure, che magari ci sono anche l'allevatore Alta Tesino, che saluto se ci sono in diretta sicuramente, che magari con produzioni più ridotte, considerando la difficoltà del territorio, magari non è che ci sia una vita chissà quanto possibilità di investire, però comunque è una dignitosa attività economica. Arrigo, spiegaci un po' questa cosa qui. Grazie a tutti e buongiorno. Allora, noi siamo tutti cresciuti in un mondo, nel mondo zootecnico, stiamo qua, in cui siamo stati abituati a pensare, che le performance, qualsiasi tipo di performance, che sia produttiva, riproduttiva, piuttosto che di sviluppo della genetica, piuttosto che di campagna, insomma, mettiamoci dentro quello che si voleva, automaticamente portava con sé un reddito. Ci piaccia o non ci piaccia? Noi siamo nati in questo mondo, per cui, quando qualsiasi di noi va in una stalla, non la prima domanda per una questione di fair play, forse la seconda o la terza gli dice quanto latte fai a vacca? Non gli chiede quanto molla hai a vacca? Per cui, ci piaccia o non ci piaccia? Questa cosa è un indicatore del fatto che noi siamo culturalmente abituati alle performance e usiamo subito il parallelo performance se riteniamo che la performance sia buona, perché automaticamente il meccanismo che abbiamo in testa ci porta subito a fare questo tipo di considerazione. Per cui, questo è vero o meglio, finché noi misuriamo le performance e non misuriamo i dati economici, non abbiamo altro elemento di valutazione e di comparazione tra le aziende se non questo per cui dobbiamo lasciarlo per buono. Allora, nelle aziende oggi siamo drogati di dati di performance. drogati adesso è un termine un po' forte ma per diciamo per rendere un po' l'idea. In ogni azienda esiste almeno un software per la gestione dei dati di stalla. Spesso ce ne sono due io conosco delle aziende che ne hanno quattro per cui esiste una capacità di rilevazione dei dati e di elaborazione dei dati che è fenomenale per cui in un'azienda ci sono montagne di dati si potrebbe fare il ragionamento se poi questi dati diventano anche delle informazioni e qual è il meccanismo attraverso cui diventano delle informazioni attraverso le quali vengono prese delle decisioni se si interrompe questa catena c'è un problema cioè a che ti serve il dato se non arriva ad una decisione però non è questo oggi l'argomento di certo che nel corso degli anni è aumentato molto ed è stato una cosa estremamente positiva è aumentata molto la capacità di rilevazione e di elaborazione dei dati di performance delle aziende oggi le aziende si confrontano in modo molto approfondito su dati produttivi perché possono rilevare attraverso gli strumenti presenti nelle sale ogni mungitura i dati di produzione di ogni vacca possono sezionare i dati della fertilità in un modo straordinario cosa che fino a qualche anno fa non era possibile tutto questo ha creato la base per una cultura per cui ha creato poi la base attraverso la quale si sono inserite delle professionalità delle persone capaci di utilizzare questi dati se tirate via questi dati si ritorna al punto di essere degli sciamani e cioè tornate indietro 15 anni fa chiedete come va la fertilità bene ma se dobbiamo riempire di numeri questo bene come lo riempiamo ma ieri ho fatto 4 gravidanze oppure 16 gravidanze per carità va bene ma non significa niente finché non si arriva ad avere dei numeri che rappresentano la realtà è come se la realtà non esistesse per cui senza numeri non è possibile gestire alcuna attività economica alcuna e parto sempre dei dati di performance per dire mi accodo al ragionamento che faceva prima Alessandro perché è stato possibile passare da 30 a 40 litri certamente perché si sono sviluppate nel corso degli anni delle conoscenze gestionali tali per cui ma queste conoscenze si sono basate sui numeri su dati è cresciuta la cultura di fondo senza la quale nessuno può andare da nessuna parte cioè se tu non riesci a vedere l'effetto che fa la ventilazione d'estate sulla tua fertilità per cui non misuri cosa succedeva prima e cosa succede dopo non ti rendi conto di qual è l'impatto che questa chiamiamola tecnologia ha in un'azienda per cui si basa tutto sulla misura di un prima e di un dopo prima sono in un modo faccio un intervento e verifico cosa è successo da questo intervento ma non lo verifico a chiacchiere mi sembra che le vacche stiano meglio ma non diciamo niente quando diciamo così devo dire prima le vacche avevo in estate un un tasso di concepimento del 20% adesso ce l'ho 40 e da lì ci puoi costruire tutta una serie di ragionamenti e di considerazioni passiamo al versante economico quante sono le aziende che hanno un software per la gestione del conto economico credo ognuno di noi può dare delle cifre provate a pensare tra i conoscenti che ognuno ha quante sono le aziende che usano strumenti di questo tipo a prescindere da come si chiamino per cui non fa parte non sono nella modalità pubblicità progresso uno usa un sistema un altro un altro ancora quello che gli pare se non esiste un sistema informatico robusto e per robusto adesso sgombriamo il campo tiriamo via tutti gli strumenti che si basano su Excel perché insomma il mondo è andato avanti è difficile gestire con strumenti di quel tipo delle realtà complesse sarebbe come dire gestire i dati di install con Excel cioè gli darei il Nobel a chi ha fatto i fogli di calcolo però ci sono alcune a un certo punto lo strumento diventa debole per lo scopo di cui è bisogno immaginate che adesso andate nelle aziende e dite via AFI via Daily Comp via Sial via Cincinnato tabelle di calcolo penso che ciascuno di noi percepisca che la cosa non regge c'è troppa roba da mettergli dentro troppe considerazioni troppa stabilità che serve e che lo strumento non dà per cui il numero di aziende che gestiscono i propri dati economici è irrilevante finché non cresce la cultura da questo punto di vista saremo ci troveremo sempre nella condizione di dover immaginare di restare soltanto nel mondo delle performance non avremo degli strumenti di comprensione e di elaborazione dei dati economici io stimo per quello che vedo io che il numero di aziende che ha dei software per la gestione del conto economico credo se sono ottimista diciamo 10% ma se sono ottimista per cui se il nostro mondo non cresce culturalmente da questo punto di vista ogni ragionamento che si fa sono dei ragionamenti sporadici per carità uno lo fa a casa sua ma non cresce il settore il settore invece ha bisogno di questa cultura che Alessandro chiama correttamente la cultura del conto economico se in un'azienda non abbiamo una gestione equilibrata dei dati di performance e dei dati economici c'è qualcosa che non va se addirittura non abbiamo dei dati la presenza di dati economici c'è tanto che non va ma tanto tanto perché vuol dire che siamo probabilmente e auspicabilmente dei bravi allevatori probabilmente e auspicabilmente dei bravi agricoltori ma con ogni probabilità non siamo dei buoni imprenditori perché lo strumento del buon imprenditore è un conto economico che parli senza quello chiamiamoci allevatori benissimo chiamiamoci agricoltori benissimo ma la parola imprenditori lasciamola lì per diciamo per non abusarne secondo me l'imprenditore di qualsiasi settore ha in tasca il suo conto economico se non ce l'ha dobbiamo rapportarci con un'altra modalità e come se uno non facesse veramente fino in fondo quel mestiere lì faccio sempre il paragone tra i dati tecnici e i dati economici non perché ce l'ho con i dati tecnici perché sono lo strumento attraverso cui arrivare all'obiettivo di ogni impresa che sta al mondo che è il reddito ma se non abbiamo degli strumenti che lo misurano questo reddito non andiamo da nessuna parte entriamo un po' nel merito della questione è certamente vero che la vacca più produttiva garantisce ricavi più alti è altrettanto vero che l'azienda più produttiva garantisce ricavi più alti possiamo dire che la vacca o l'azienda più produttiva guadagna di più mi rendo conto che sono domande banali ok però dentro nella nostra testa noi ci portiamo sempre dietro un pezzo di questo bacco e cioè per facilità per abitudine facciamo sempre il conto un litro di latte in più prendo 40 centesimi in più non facciamo il conto qual è il margine operativo che io ho in tasca da ogni litro che oggi produco per cui se faccio un litro di latte in più che diventa un litro di latte marginale qual è il margine operativo che quel litro di latte mi lascia addosso non è 40 centesimi non può essere 40 centesimi perché quello è il ricavo non il margine la risposta corretta a questa domanda è dipende per cui me la sono cavata in modo un po' democristiano ma dipende cosa vuol dire vuol dire che ci sono realtà in cui nella situazione in cui si trovano produrre un latte di più significa guadagnare di più ci sono alcune realtà nelle quali produrre un litro di latte in più significa inutile o perdere per cui dipende dipende dalla struttura dei costi di un'azienda dipende da quanto costa produrre si parte sempre dal ragionare su quanto costa produrre ogni litro di latte che normalmente esce dalla tua azienda se non si ha questo dato di partenza non si può rispondere alla domanda mi conviene produrre un latte in più un litro di latte in più se non so qual è il mio costo di produzione dell'unità di prodotto non so se mi conviene fate l'esempio di qualcuno che produce che ne so io frigoriferi la cosa che è obbligato a sapere è qual è il suo costo di produzione operativo cioè i costi di tutti i giorni l'alimentazione i farmaci la gestione dell'asciutta la mano d'opera la corrente elettrica se io chiedessi non lo faccio ma se io chiedessi a 100 aziende qual è il tuo costo operativo per ogni litro di latte che esce dalla tua azienda io penso che 95 non lo sanno o meglio non lo tengono monitorato a volte fanno tre conti fanno così a mente ok ma è passato quel mondo lì significa sostanzialmente che è fondamentale avere una gestione dei propri costi e questa gestione deve essere poi indicizzata o all'unità di prodotto il litro di latte o all'unità di fattore di produzione la vacca ho mungo cento vacche mi conviene tenere la centunesima ovvero mi conviene ampliare la mia stalla e portarla a cento trenta centocinquanta duecento adesso ognuno può che da sua fa i suoi ragionamenti se non so qual è il margine che mi dà ogni vacca come faccio a rispondere a quella domanda come faccio a valutare se l'investimento che mi è richiesto per fare una unità di prodotto in più mi è conveniente o non mi è conveniente è impossibile significa da questo punto di vista entrare e io spero che lo si faccia e lo si faccia il più in fretta possibile in una in una logica di gestione industriale nel senso buono che questo termine ha perché se non facciamo questo le nostre scelte sia quelle operative sia quelle strategiche con difficoltà raggiungeranno gli obiettivi che ci siamo posti perché non abbiamo la misura economica del percorso che stiamo facendo non sappiamo da dove partiamo e non sappiamo dove vogliamo arrivare faccio un investimento per quale motivo perché oggi ho un costo operativo per produrre un litro di latte di 43 centesimi e faccio A, B, C, D perché voglio portare il mio costo operativo a 36 centesimi e lo misuro perché questo mi rende meno dipendente meno sensibile del prezzo del latte che non controllo per cui sostanzialmente lo stesso percorso che nel corso degli anni è stato fatto attraverso la produzione di dati che ci hanno permesso di migliorare le performance le performance le chiamo tecniche la quantità di latte pro capite la fertilità i titoli gli indici genetici e robe di questo tipo lo stesso percorso dobbiamo immaginarlo sul versante economico se non facciamo questo stesso percorso siamo nella condizione di brancolare non abbiamo realmente in mano degli strumenti che ci possono permettere di affrontare un percorso diverso ok aumentiamo la stalla aumentiamo la stalla ma a che pro la aumentiamo per aumentare la quantità di latte che consegniamo è di solito uno lo fa perché vuol guadagnare di più non perché vuol lavorare di più poi per carità se uno gli diverte anche così va bene nessun problema però se non lo misuriamo questa roba qua lasciamo che sia a come viene allora il puntatore Alessandro questo questa è la tabella della produzione durante un controllo di una certa stalla è una stalla a caso nessun problema noi siamo abituati a vedere questi dati elencati o per numero aziendale o dalla più produttiva alla meno produttiva ok invece in questa si riferisce ad un software che stiamo sviluppando questo invece è diciamo è messo in fila secondo questa tabella secondo questo indice il valore del latte che consegniamo per cui questo è il valore del latte questi sono i chili prodotti da quella vacca a quel giorno vedete che funzionano in modo diverso a volte anche molto diverso l'unica cosa che è stata fatta è applicare la produzione quantità di latte e titoli grasso, proteine e cellule un sistema di pagamento che è il sistema di pagamento regionale ok per cui vedete che ci sono delle differenze che a volte sembrano incomprensibili questa vacca fa 52 litri e questa ne fa 61 e sostanzialmente hanno un ricavo che è uguale tenete conto che il prezzo del latte in questa particolare azienda è un prezzo alto per cui favori mentre la qualità è sempre quella per cui favorisce la situazione della vacca più produttiva cioè in questa azienda il prezzo del latte ivato è arriva a circa 50 centesimi più la qualità se voi mettete dentro anziché 50 centesimi mettete dentro i 39 40 che ballano adesso questa classifica diventa enormemente diversa ancora una volta per cui impattano molto sui ricavi non sto parlando di guadagno sui ricavi impatta molto la qualità per cui vedete che se cominciate a fare dei ragionamenti economici potete vedere ogni vacca con un'ottica diversa è fuori discussione che quando partoriscono le primipare ci si chiede quanto fa quella lì per cui fa 30 35 40 50 litri quello che fa ma la qualità è un di cui nessuno considera se non eventualmente alla fine della latazione nessuno ha l'abitudine di considerare come impatta la qualità del latte che quella vacca lì sta producendo lo diamo come per dire è la media dentro nel tank è un altro problema se cominciate diciamo il senso di questa tabella è se cominciate ad intersecare a mischiare a imbastardire i dati tecnici con i dati economici vedete che la prospettiva comincia a cambiare la vacca che mi dà più ricavi non che mi fa guadagnare di più la vacca che mi dà più ricavi non è la vacca più produttiva diciamo questa roba è se volete è quasi banale ma dimostra il fatto che quando voi cominciate a mischiare ad intersecare dati di performance con i dati economici la prospettiva da cui guardate quel problema cambia ma a volte può cambiare anche radicalmente questa è una tabella semplice in cui si dice una roba di questo tipo mettiamo che il mol di base in questa azienda sia 15 centesimi al litro mol vuol dire il margine operativo lordo che è la differenza tra i ricavi e i costi operativi 15 centesimi è già un risultato consistente ed è possibile in una situazione o estremamente efficiente sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico oppure quando il prezzo del latte è decisamente sostenuto fate conto che nella situazione normale oggi 15 centesimi di margine operativo al litro si è già in una condizione in cui uno può dire ed è cioè si guarda indietro e vede tanta gente e davanti non ne vede tantissima in un'azienda ma potrebbe anche essere faccio questo confronto tra delle vacche perché rende più l'idea ma questo confronto vale per le aziende è uguale c'è una vacca che fa 30 litri la sua qualità è zero per cui non ha dei premi sulla qualità per cui il suo margine operativo è 15 centesimi al litro perché non aggiunge niente il mol per vacca o per azienda se uno lo vuole è 4,50 la vacca di fianco ha invece una qualità che viene premiata con un centesimo al litro il suo mol diventa 16 va a 4,80 questo prende sempre stessa quantità di latte voi immaginatevi quattro vacche legate in fila una prende 0 l'altra 1 l'altra 2 l'altra 3 centesimi di qualità il mol diventa 15 16 17 18 il mol per vacca e cioè questo per il numero di litri diventa 4,50 4,80 5,10 5,40 la domanda la domanda è quanto latte deve fare questa vacca quella che ha zero di qualità per arrivare a produrre a me che sono il suo padrone lo stesso mol della vacca vicina 32 litri di latte perché con 32 litri di latte a 15 centesimi arriva a 4,80 mentre invece per arrivare alla terza della fila che mi dà 2 centesimi di maggiorazione di qualità quanto deve fare 34 litri e questa qua inarrivabile che fa 3 centesimi 36 litri queste vacche sono tutte uguali cioè avere una vacca che fa 36 litri o un'azienda che fa 36 litri con una qualità pari o una vacca barra un'azienda che fa 30 litri con 3 centesimi di qualità dal punto di vista dei ricavi è la stessa cosa non cambiano i ricavi ma se noi andiamo se noi valutiamo 4 vacche o 4 aziende facciamo 4 aziende perché impatta di più andiamo in un'azienda che fa 30 litri andiamo in una che ne fa 32 34 e 36 quando usciamo da quella da 30 litri diciamo eh quando usciamo da quella che ne fa 36 diciamo però questo guarda che bravo che è gestisce bene ma il suo conto economico non se ne accorge i ricavi del conto economico non notano differenza per cui tra parentesi neanche la banca lo sa non nota differenza tra le due aziende questo è lo stesso in una situazione più produttiva ancora per cui con una media di 35 litri il risultato qua è che si esplode non servono più due litri ne servono 2,3 per fare un centesimo di qualità e se voi vi ponete in una situazione come verosimilmente potrà essere il 2020 in cui con una discesa del prezzo del latte il margine operativo sarà più basso non sarà 15 centesimi sarà 13 il centesimo di qualità non vale 1 su 15 vale 1 su 13 per cui avrà un peso decisamente maggiore vi faccio notare che stiamo ancora una volta imbastardendo i dati tecnici con quelli economici questa è una tabella che mette in relazione mi pare 26 27 aziende che hanno dei dati di conto economico tenuti in modo omogeneo validati e che partecipano ad un discorso che si chiama benchmark che è una messa in comune anonima dei dati per misurare ciascuno la propria efficienza rispetto alla media del gruppo o rispetto al migliore o al peggiore chiamiamolo così questa riga è la riga della produzione media questa azienda produce di media circa su tutto l'anno sui 365 giorni 39 forse 40 roba di questo tipo questo è il suo costo operativo e cioè quanto gli costa produrre operativamente un litro di latte in questa azienda produrre un litro di latte costa 42 e mezzo l'azienda di fianco che ha una produzione leggermente mettiamo che sia non so sarà mezzo litro un litro di differenza ha un costo operativo che è di 36 dunque ci sono circa 6 centesimi di differenza ma la differenza produttiva è di un litro per cui provate a vedere gli abbinamenti cioè gli abbinamenti dicono aziende che hanno sostanzialmente la stessa media produttiva ma guardate che differenze di costi che ci sono anche in situazioni poco produttive le differenze di OPEX sono enormi il motivo di questo risiede principalmente nel fatto che controlliamo la media ma non controlliamo gli OPEX e se non li controlli vanno per conto loro questo invece si riferisce ad una elaborazione fatta su 25 aziende che hanno messo in comune i dati per il primo semestre del 2019 questa è la media produttiva ok e questo è il margine operativo questa è una stalla che munge circa 31 litri di latte e ha un margine operativo nullo cioè non crea valore aggiunto che è diciamo la cosa peggio che possa capitare da un punto di vista economico a qualsiasi attività vuol dire è come se io facessi il commerciante compro uno e vendo a uno stavo a letto dormire e avevo guadagnato senza rischi perché non ho creato valore aggiunto queste aziende hanno una media più bassa hanno un margine operativo più alto questa è l'azienda che ha la produzione più alta e ha un margine operativo di 11 e mezzo più o meno queste sono le aziende che hanno il margine operativo più alto e questa è la loro media ok questo invece è scusate tornate un attimo sostanzialmente questa cosa dice che non ci sono e comincio a rispondere alla domanda iniziale non ci sono correlazioni tra la produzione e il molla questa affermazione è densa di un sacco di significati che poi cerco di esprimere questa cosa dice che invece esiste una relazione molto forte lo vedete lo vedete da questa tendenza tra il costo alimentare per litro di latte e i costi operativi per litri di latte cosa vuol dire se ti scappa se non controlli il costo alimentare totale per cui comprensivo non solo delle vacche ma anze asciutte vitelle quello che tu ci metti dentro come produzione di campagna per cui il contributo della stessa azienda se ti scappa questo non lo recuperi più cioè chi ha un costo alimentare per litro di latte alto non riesce più ad avere gli OPEX bassi il motivo di questo è banale ed è che almeno dentro in questo gruppo di aziende che è abbastanza significativo il 67% di tutto il costo di produzione è dato dei costi alimentari per cui se non controlli e non gestisci bene quella variabile e ti scappa non puoi più recuperarla su tutte le altre voci che insieme assomano il 33% questo è un po' troppo difficile da spiegare la lasciamo lì per un'altra per un'altra situazione allora dicevo prima per riassumere il tutto sì 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 sono tutte le aziende anche quelle che hanno IVA ordinaria sono tutte riportate a IVA forfettaria in modo che siano confrontabili i dati di produzione sono ho detto sono indipendenti rispetto ai al mol e a tutti i dati economici sono sono indipendenti per cui l'affermazione sulla quale ognuno di noi è cresciuto che tira sulla media di produzione perché guadagni di più è infondata non vuol dire che è infondata l'affermazione di costruire una relazione diretta e univoca tra queste due variabili non ho detto non ho detto che esiste una correlazione negativa sono due variabili indipendenti e devono essere gestite come se fossero due variabili indipendenti questa è la ragione per la quale se vengono gestite entrambe le variabili con la stessa dignità con la stessa misurazione è possibile affermare che in quel tipo di situazione produrre di più fa guadagnare di più ma soltanto se si mischiano i dati produttivi con quelli economici e se si controllano entrambi perché sono indipendenti immaginare di dire controllo la produzione perché tanto il reddito mi viene dietro è una roba che non ha senso sarebbe come dire io tengo in tasca un fazzoletto e la piove cosa c'entrano queste due cose niente per cui se le controlliamo entrambe riusciamo a a legarle nella nostra testa di imprenditori se non le teniamo controllate vanno per conto loro e possono andare in una direzione buona o possono andare con la stessa probabilità in una direzione che noi non desideriamo grazie Enrico ovviamente non è la fiera il luogo il contenitore per approfondire le cose perché le fiere danno stimoli non approfondiscono nulla se no non si chiamerebbero fiera il tempo poi è chiaro questa noi siamo qui con una disponibilità di tempo limitata avremo sicuramente modo di approfondire quindi vi invito a seguire gli articoli di faccio un po' di spot pubblicitario ovviamente di Enrico Milanesi su Ruminanza sulla rubrica di economia tanto o li trovate lì oppure chiedete a Google e Google li porterà lì quindi forse è più facile arrivarci da Google che in un altro modo però secondo me Enrico chiaro che mi sembra che tu abbia detto che una regola non c'è quindi che alla fine non è sinonimo non è ossimoro ma dipende ogni azienda è un'impresa a sé stante che va valutata diciamo nei punti deboli e nei punti di forza e quindi vanno fatte delle analisi ma questo è un po' tutte le imprese sapete qui ci sono operatori mangimisti ci sono operatori di beni strumentali di vario tipo questo è se qui il tema era i costruttori di faccia di condizionatrici l'avremmo declinato in questo stesso modo non cambia sostanzialmente però lascerei questi 3-4 minuti a disposizione per delle non delle domande non ci piace mai dire se qualcuno può fare delle domande qualche riflessione da parte vostra Giuseppe vuoi dire qualcosa? Sì mi è piaciuto mi è piaciuto molto e volevo chiedere io avevo visto l'incontro che avete fatto precedentemente a Cremona e mi aveva colpito il fatto che analizzavi i costi indicizzandoli diciamo e volevo chiederti come mai in certe situazioni non consideri tutti i costi alimentari di tutto l'allevamento ma soltanto delle vacche presenti e non di tutto l'allevamento per fare questa indicizzazione forse avevi già risposto però non so se allora i costi ci sono dentro tutti solo che abbiamo scelto per cui tutte le fatture tutti gli acquisti tutti i trasferimenti c'è dentro tutto abbiamo scelto di indicizzarli in base soltanto al numero di vacche in lattazione per cui le vacche munte è un modo opinabile ma è un modo per cui se io adesso la faccio breve se io ho speso 100.000 euro e ho in lattazione 100 vacche ho speso 1.000 euro a vacca dentro in questi 100.000 euro di costo c'è dentro tutto c'è dentro il latte per i vitelli quello che hanno mangiato le asciutte le manze c'è dentro tutto ma viene messo sul numero di vacche in latte il motivo di questo è che questo ragionamento è propedeutico a sviluppare dei ragionamenti legati all'aumento delle vacche in latte cioè nel momento in cui io mi chiedo oggi ho 100 vacche in latte e se ne avessi 120 per cui ragiono quando faccio cioè non io in generale ognuno di noi ogni operatore quando ragiona se gli conviene fare un pezzo in più ragiona sul numero di vacche che munge e dunque sul latte che consegna queste maggiori vacche il motivo di questa indicizzazione è una scelta di indicizzazione non di non di non di non dei costi i costi ci sono sempre tutti perché essendo il nostro un software di contabilità ci devono essere tutti per forza Agostino ci dai una battuta funziona? sì sì grazie intanto complimenti a Alessandro e in particolare a Derrigo se posso fare una piccola chiosa veloce è dire che fortunatamente abbiamo tanti margini di miglioramento no? e questo vale sia per quello che fa 40 litri e quello che ne fa 30 mentre invece tante volte ci capita di parlare con gli allevatori e oltre a quanto latte fanno l'altra cosa che la prima o la terza domanda è quanto prendi del latte e di là del fatto che non possiamo incidere su cosa prendiamo del latte bisogna anche dirsi che in Italia siamo una delle situazioni più favorevoli al mondo se non la più favorevoli in assoluto tenendo a parte quella del parmigiano reggiano perché quella è quasi reale fondamentalmente però meglio così voglio dire l'altra cosa se posso permettermi invece se torni dietro un paio di slide uno due slide in generale non vorrei che ci fosse un po' la demonizzazione invece delle performance perché è vero che il conto economico l'aspetto finanziario sono in riflesso anche delle performance perché o se vuoi della gestione tecnica come vogliamo io invece sono il fautore del litro di latte marginale perché se è vero ed è vero e chi non lo fa ancora c'era quella tabella con i costi alimentari questa qui quindi torni dietro un attimo ora vedere che il costo alimentare al litro passa da 0,25 per se fai 30 a 0,29 che se ne fai 41 forse non è sempre così ecco voglio dire no? la tabella merita una spiegazione perché non è da leggere in questo modo quindi lì si vede che gli OFC rimangono uguali perché nonostante si faccia 11 kg in più quindi il costo alimentare è allora la spiego velocemente questa tabella dice che se il costo alimentare se non controllo il costo alimentare e mi trovo nei diversi scenari e cioè ho un costo alimentare di 25 ok se invece ho un costo alimentare di 26 quanto latte in più devo fare per raggiungere lo stesso obiettivo e se mi trovo a 27 e se mi trovo a 28 e se mi trovo a 29 cosa devo fare qual è la produzione che devo raggiungere per avere lo stesso risultato per cui non non l'avevo spiegato non è da intendere che vai su come produzione e automaticamente vai su come costo non è vero ci sono delle aziende che fanno 40 litri di media e sono a 25 centesimi perché controllano questa variabile ok quindi per concludere io sono invece un fattore del litro di latte marginale perché se è vero che il litro di latte marginale non ci dà 40 centesimi però ci dà 40 centesimi meno tutto quello che ci costa quel litro di latte marginale che se sono bravo a tenere fissi i costi fissi no mi costa solamente i marginali che sono i 4 litri di sostanza secca che la vacca ha bisogno di mangiare per fare quel litro di latte in più quindi se io avessi la bacchetta magica o parlassi la lingua delle vacche e domani mattina venissi nella tua stalla e dici ragazze stamattina mangiamo tutte 4 etti di sostanza secca in più e quindi per ogni vacca mi trovo 30 centesimi in più ora la bacchetta magica non ce l'ho però fortunatamente la possibilità di fare in modo che le vacche mangino 4 etti in più c'è e questo si traduce in 30 centesimi al più per vacca grazie grazie Costino dobbiamo concludere però volevo una battuta su questo argomento qui soprattutto ai giovani che vedo sempre molto presenti e questo ci ci rende contenti io vengo dal tempo non dal medioevo ovviamente però dal tempo che c'era una correlazione diretta fra razione e produzione perché questo era così ci si sedeva in cucina gli uffici non c'erano ancora negli allevamenti ci si guardava in faccia e dice bene faremo una razione per 30 litri boh era come la manopola della radio la vuoi sentire un po' di più poi a volte si dice ma dai va crepi la varizia la facciamo per 30 litri questo tempo era passato poi grazie al lavoro che avete fatto Agostino io vi do merito la selezione genetica a un certo punto io non riesco a datarlo ma forse è avvenuto forse dieci anni fa c'è stato il sorpasso la razione non condizionava più la produzione ma condizionava i caratteri funzionali vi do questa battuta perché può servire poi chiudiamo diversi anni fa seguivo una stalla di manto ma molto molto produttiva ingiustificatamente produttiva non riuscivo a capire perché con quella razione semplice facesse quel latte erano tanti anni fa ed era il tempo delle quote che dovevi decidere che facciamo rischio calo la produzione o compro le quote non c'era la quarta questo allevatore dice non possiamo rischiare abbassiamo il latte io da inesperto dissi va bene togli un chilo di mais e mezzo chilo di soia e poi ci vediamo la settimana prossima voi sapete i mantovani come poi i bresciani come poi ma io non ce la faccio a venire mi chiama dice ho fatto questo ma non è calato il latte cioè è calato di niente io il primo pensiero è non so fare le diete delle vacche quindi io gli ho fatto buttare via dei soldi per un chilo di mais e mezzo chilo di soia inutilmente passa due o tre giorni e ho detto beh togli un altro chilo di mais adesso ve la dico così mi richiama mi fa sì stavolta un po' è calato ma meno male però c'è un fatto nuovo non ho fecondato una vacca questa settimana probabilmente è qui la radice della violazione del paradigma allora io vi ringrazio ringrazio chi ci sta seguendo su facebook faccio una promessa che faremo questo evento magari un pochino più lungo un po' più approfondito non in una sede e vi ringrazio spero che vi sia stato utile Enrico Milanesi sta da noi ancora per un po' per le gli autografi come sarà scusa sì sì è chiaro tutto questo verrà caricato l'ho detto prima su youtube quindi lo possiamo rivedere grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti